Noi siamo nemici della polvere, siamo sempre lì con stracci e aspirapolveri per cercare di levarla da ogni angolo delle nostre abitazioni, ma nello spazio, nel cosmo, nell'universo è tutt'altra cosa perché la polvere cosmica è fondamentale, lo studio di nubi, di gas e polveri è importante per studiare come nascono nuove stelle. Sono delle immagini straordinarie, bellissime, delle ricostruzioni in 3D ottenute grazie al telescopio Apex. Si tratta, quella che vedete, di una regione che circonda la nebulosa riflessione messa il 78 al nord della cintura di Orione. Osservando il gas di queste nubi si rivelano flussi di gas ad alta velocità che fuoriescono da alcuni di questi grumi densi, espulsi da stelle giovani durante la loro formazione a partire dalle nubi circostante. La loro presenza è perciò una dimostrazione che i grumi stanno effettivamente formando stelle. In pratica stiamo guardando una culla dove le stelle stanno nascendo. Ci sono delle piccole stelle giovani che stanno crescendo e un giorno splenderanno come il nostro sole. La bellezza, la straordinarietà di queste immagini ci lascia senza fiato e le parole sono superflue. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.